Metal 2000, infissi in legno, alluminio, infissi in taglio termico, infissi in PVC e persiane in alluminio e in acciaio zingato verniciato, basta gamma di colori, preventivi gratuiti. Camilla Fimiani al terzo posto nella categoria bambine. Sara Pendenza si è piazzata settima invece nella categoria allieve. Il club Scherma Salerno, sezione Cava dei Tirreni del direttore tecnico Rosanna Pagano, ha partecipato domenica alle gare di Ariccia, in provincia di Roma, nella specialità Sciabola. Gli atleti sono stati iscritti alla prima prova interregionale Under-14 e si sono fatti valere nelle varie categorie. Ad Ariccia le allieve erano rappresentate da Sara Pendenza e Angelica Fimiani, gli allievi da Lorenzo Giordano, Roberto Nicoletti e Nicola Di Domenico. Per i giovanissimi c'erano Vincenzo Didato e Davide Pecoraro e l'unica della categoria bambine era Camilla Fimiani, che ha raggiunto il terzo posto ex equo con Caterina Bilotti, della SS Lazio Scherma Riccia. Così Rosanna Pagano, intervistata dall'ufficio stampa della sezione Cava dei Tirreni. Sono stati due mesi molto intensi. In realtà io e Giovanni Di Fidio, il mio collaboratore, eravamo curiosi proprio di vedere come si sarebbero comportati poi in gara, perché ovviamente è una cosa l'allenamento, è una cosa vedere come rispondono in gara. Siamo tornati a casa consapevoli che ognuno di loro ovviamente dovrà lavorare su diversi aspetti. C'è chi dovrà impegnarsi da un punto di vista mentale, c'è chi dovrà migliorare la tecnica, chi la tattica. Ovviamente per fortuna non siamo tutti uguali, ancora di più gli atleti sono tutti diversi, quindi sta a noi cercare di tirare il meglio da ognuno di loro. Continuano gli allenamenti in palestra a Cava e a quanto si sa, tra due settimane, Giovanni Murolo e Claudia Montefusco parteciperanno ai campionati italiani categoria giovani.